Sono Gabriella Amato, sono laureata in Biotecnologie per la Salute presso l'Università di Napoli Federico II. Il corso Biomedical Sciences ha subito suscitato il mio interesse sia per il contenuto dei corsi, sia per il fatto che i corsi fossero erogati totalmente in inglese, che dal mio punto di vista è un gran valore aggiunto. Un altro punto fondamentale, più personale, è che dia l'opportunità di effettuare un tirocino curricolare in Svizzera, che è sempre stato uno dei miei obiettivi. In generale i professori sono molto disponibili e aperti a qualsiasi tipo di confronto e ad oggi posso dire di essere pienamente soddisfatta della mia scelta.